Le campane della Chiesa Madre sono ritornate a suonare festose, annunciando gioia e speranza, sono la voce di Dio che ci chiama. Inizia così la lettera che Don Alessandro Genovese, arciprete parroco della Chiesa Madre di Floridia, ha indirizzato ai fedeli per annunciare il ripristino delle campane e ritornano a suonare in questo mese di giugno, continua, caro al popolo cristiano per la devozione al cuore di Gesù, cui questa città di Floridia fu consacrata solennemente nel 1935. Era necessario ripristinare un attimo, in modo particolare, la campana più grande della nostra Chiesa Madre, dedicata alla nostra patrona, l'Immacolata, e ripristinare la loro collocazione. Abbiamo approfittato di questa situazione per restituire anche un suono più armonioso e più bello alle nostre campane, che sono il segno della gioia che suona nella nostra città e che non deve essere un suono che ci infastidisce, ma così come ho raccolto dai nostri fratelli dalla piazza, mi hanno detto che è un suono più tranquillo, più melodioso, oserei dire. Allora questo passaggio lo abbiamo fatto in questo mese di giugno tutto particolare. Si slanciano, oserei dire, nel cielo di Floridia, dal campanile. Se il Signore all'interno dell'edificio ci parla, quando ci convoca, dall'esterno il campanile ci ricorda che Dio continua a chiamarci e a chiamarci attraverso questo suono, che secondo la tradizione cristiana è la voce di Dio che ci convoca in assemblea liturgica all'interno dell'edificio chiesa. Campane che annunciano peraltro uno speciale momento di grazia. Suoneranno a festa perché ci convocheranno in assemblea, nonostante le difficoltà delle norme che ancora siamo chiamati a rispettare a causa della pandemia, ma ci convocheranno e ci chiameranno a festa perché giorno 30 e nella nostra chiesa madre avremo la gioia di partecipare all'ordinazione diaconale di tre figli di questa città di Floridia e di un figlio della comunità di Palazzolo. Sarà il nostro arcivescovo Salvatore Pappalardo a presiedere il rito di ordinazione diaconale. E poi il 16 luglio, sempre nella nostra Floridia, nella chiesa del Carmine, due figli di quella comunità riceveranno anch'essi l'ordinazione diaconale nella chiesa del Carmine. L'arcivescovo Salvatore Pappalardo nel giorno del 52esimo anniversario di ordinazione sacerdotale il 30 giugno alle ore 19 ordinerà i diagoni permanenti. Claudio Spada, Ettore Ferlito della comunità chiesa madre, Giuseppe Trapani della parrocchia San Francesco, Lucio Interlandi per la parrocchia Sant'Antonio di Palazzolo e il 16 luglio in chiesa del Carmine saranno ancora ordinati i diaconi Fabio Ferlito e Rocco Motta. Una forte testimonianza giunge dunque alla comunità in un periodo di forte prova. Questa ordinazione certamente arriva in un tempo, oserei dire, provvidenziale nel progetto di Dio e all'interno di quelle che sono stati i mesi bui che abbiamo vissuto. Attraverso le immagini della televisione, attraverso i giornali abbiamo letto come questa umanità è stata spronata a mettersi a servizio. Penso a quei medici, a quegli operatori sanitari che sono stati diaconi all'interno degli ospedali, a tutte quelle persone che con il volontariato hanno arricchito questa umanità impoverita dalla fragilità di questa epidemia. Allora è un segno per noi. Il Signore ci chiede di continuare ad essere servi l'uno per l'altro perché solo così possiamo esercitare il comandamento dell'amore. Solo così possiamo essere, anche se non abbiamo un'ordinazione all'interno della Chiesa, ma possiamo essere diaconi, servitori dell'umanità nel nome di Cristo Gesù.